Sì, cominciamo a svuotare tutto! Oh cavolo, sono tantissimi regali! Ok, ora li mettiamo tutti quanti a posto! Oh che bello ordinato! Cominciamo a mangiare questo! Ale, voglio darmi a mangiare? Posso mangiare un po' di più? Sì, però fai fermo là, se no mi fai arrabbiare, non vuoi! Mmm, yum! Questo è molto buono, ma è dolce, quindi lo crediamo! Mettiamolo da parte, questo è un altro, come questo, ok grazie, ok grazie mille, ma questo è bellissimo, e abbiamo le altre caramelle, le altre caramelline, quindi ciao! Ciao!